Allora Johnny, autentica spina nel fianco della difesa di Pietrasanta, raccontaci un attimo due episodi che te sicuramente saprai raccontarceli meglio, sia delle immagini che delle persone che hanno visto da fuori. È stato l'episodio lì che è stato un fallo di gioco normalissimo, non l'ho visto assolutamente, non ero involontaria, l'arbitro l'ha capito e è andata bene lì, che dopo ha detto ho fatto una simulazione che a mio avviso non c'era e mi ha buttato fuori. Comunque sono contento per la squadra che anche in 10 abbiamo dato dimostrazione di essere tosti e di meritarci il primo posto in classifica. Forse era un segno del destino, la tua espulsione, poi il cambio prega a Balestri e il gol vittoria di Federico. Sì, ma ognuno sa che chi entra, chi gioca deve dare il massimo e lo stiamo facendo tutti, stiamo cercando di vincere questo campionato col gruppo, con la voglia, con l'umiltà e anche oggi l'abbiamo dimostrato. Ecco, te sei uno che negli ultimi due anni ha vinto due campionati, ora se va a 7 punti dovrete essere bravi a far finta di nulla e a continuare sulla strada per vincere tutte le partite. Tu sarai uno di quelli che con la tua esperienza farà la parte importante di questo gruppo. Sì, a parte i due campionati vinti di seguito stiamo facendo bene, stiamo dimostrando di essere forti, comunque sia se continuiamo così non pensando ai 7 punti, continuiamo per la nostra strada, è dura venire a vincere qui e saremo bravi anche a vincere fuori. Grazie. Grazie.